Oh, è 50% di sconto! Mi sa che ho bugato il gioco Eh, tanto piaci È successo No, cazzo! Eh, non dovevi dormire Ok, so che non si direbbe, ma questo è interessante da leggere, c'è solo un problema Guarda qui, continua, puntino Odio la suspense Dove l'hai preso? L'ho preso da Bill E c'erano un sacco di cose sparse Che cos'altro hai preso? Beh... Tieni, non ti fa venire nostalgia Ehi, ma questa è decisamente più vecchia di me Non è niente da... Oddio Beh, meglio di niente Oh, sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte Non c'è molto da leggere, ma le foto sono interessanti No, Ellie, quello non è per bambini Uh! Come... Tiavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo? Ehi, buttalo via, smestila Oh, stai tranquillo, voglio capire meglio Do solo un occhiatino Perché queste sono incollate? Ehm... Mi sto solo prendendo in giro Ciao, ciao, amico! C'è una cosa? Non lo fai per niente Perché non proviata? Ma... Pfff... Non sono stanca Oddio E adesso? Non. E' ancora... Piano? Aiuto! Porca merda. Andiamo ad aiutarlo? Là c'è la cintura, Ellie. Ma scusa, è quel tizio? E' neanche ferito. No! 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 Allora scendi! In fretta! Vieni qua tu merda! Lassjati, vasszati merda! Csai! 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 pezzo di merda forza cos'hanno questi tizi? prendi fiato ce ne andiamo eh sarebbe il caso attento merda sta giù ecco proprio la bello bel colpo mancato andiamo con me si vabbè dai non ci posso andiamo andiamo oh addio si Ellie rimani pure davanti bel colpo in testa è sostanto no dai ma non è possibile tutta ammazzata vai e ti pareva i mattoni è quello che preferisco non ci posso credere sei morto bastardo stato c'è dove sta? sta fermo non sparare c'ha pure i capelli bianchi finiti? bene credo che sia l'ultimo fantastico sì credo di sia bene perché dobbiamo uscire di qui sai come funziona guardati attorno e vedi se c'è qualcosa che ci possa dire beh sì tipo questo munizio salve a tutti ragazzi siamo con un'altra puntata di The Last of Us e siamo partiti proprio benissimo sì in una maniera scatenata ah con voi Vincent se non l'ho detto è fantastico che certe volte sono così preso dal gioco che non dico manco le cose per bene namo trova qualcosa per tenere la perna purtroppo mi dispiace aver sprecato queste robe per un bastone del genere che avrei voluto sprecarle per forse sarebbe stato il caso forse sarebbe stato molto meglio aspettare trovare un bastone di ferro perché almeno quello di ferro c'ha più colpi ah benissimo che bella vista proprio una vista celestiale non prendere niente siamo superfessori va bene meno male oh un foglio lista dei turisti ah si si fai luce mi raccomando magari vedo meglio appunto E diciamo che in questo mondo ormai per com'è è calato È difficile Adesso va così Per sopravvivere allora decidono di ammazzarsi a vicenda Per dire Comunque Abbiamo fatto un upgrade su questa roba Ah e qui possiamo... C'è un tavolo da lavoro Potrei anche non fare niente in realtà Basta così Già che ho sprecato tutte queste cose Cosa c'era? Ah mappa delle imboscate Sti disgraziati Ah ancora corpi bruciati Mamma mia Si davano da fare Ecco tutto La nostra via d'uscita Sarebbe il caso Oh altre pillole Beh altre cinque Non sono tante ma Per come siamo combinati noi Sto pescando Sì hai imparato Un altro modo per farmi impazzire Sì per te è fantastico Per lui Adesso si metterà le mani nei capelli Messo si può? Il conducente? Non c'è A posto Ah solo lì Che cos'è? Mi piacerebbe Terminator Shock Oh I primi giornalini Dove hai imparato a sparare? Chi è te? In il nostro Avevi tutto il greggio davanti E non ne hai colpito uno A poco colpito te Wow Sperissi proprio agitato Se vuoi dire le missioni Mi sento io Non c'è problema Sì come no Dove cazzo sono quelli Dovrebbero essere qui Come allo svincolo dell'autostrada Mi sorprenderei Se avessero bloccato Altri turisti È una miniera Fortuna di guardarti Vedi se c'è qualcosa Da recuperare Mentre aspettiamo Qui non c'è niente Proseguiamo Magari non ci vedono Potremmo Svignarcela Vai via Con quel bastone Non aspetto più Andiamo a vedere Cosa fanno Quei bastardi Ma vedranno Una bella sorpresa Beh via Filate Beh anche dove non sta Tutta la giornata così Potremmo andarcene Senza far casino Sì a me Non fanno venire i brividi Semplicemente Mi fanno arrabbiare Oltrepassiamo Questa azzurona Madonna Stanno andando Un bacio muro I tornelli Spero per te Che hai il biglietto Sì Vedete Non fa silenzio Sì Secondo me Secondo me In questo territorio Sono un bel po' No dai Non è possibile Mannaggia la miseria No io non ci posso credere Io non ci posso credere Fantastico Sentite Io lo Riavvia incontro Perché non è possibile Il problema è che prima Non l'aveva preso Io avevo fatto triangolo Ma non l'aveva preso Sì 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 Dai scorreggiato No No sei serio Oh mio dio Ma porca La miseria Togli tielli Mannaggia la miseria No Ma andato Quei se ne va Sto imbecille Diciamo solo Che non volevo Che andassi in questo Per favore Che nessuno venga da qui Perché sennò Secondo me Stava chiamando apposta Apposta Quello che è morto adesso Chi m'ha visto Con la voce Da dove vieni Ah là dentro Là dentro Sì Lo sapevo io Lo sapevo Ti dico solo Che devi utilizzare Come assoluto Il bastone Ma manco per il cacchio Che lo utilizzi Non so se affrontarli così O se mi stelt Wow Cosa Madonna È lì Se non si fosse messa in mezzo Mo' riuscirà a prenderlo Riuscirà a non vedermi nessuno Madonna Questo da dove è Sbucato come l'uovo di Pasqua E meno male che me ne sono accorto In tempo Più se no Poi ci rimanevamo secchi Dai vieni qui Come pensavo Oh meglio ancora Che sei andato qua Da dove è Non so come dirvelo Ma forse sarebbe stato Molto meglio Non andarsi Porca merda Come facciamo Ho sparito Ti sto ammazzando Tutti così Con solo le mani Ok Approfittiamo Guarda quante belle cose Il fatto è che Ellie Sta ancora Accovacciata Quindi mi fa pensare Che Non sono ancora finiti Andiamo sopra Vediamo quanti sono Ce n'è uno Qui Calma ragazzi Forse sono rimasti Solo due Qua dietro è perfetto Curioso Vero Ma come fa la colla La testa Pim pim Raga Non vedo Ellie Ah ecco Oh però Si nascondono Poi il problema È che non riesco A vedere chissà Quanto lontano Oh Stava completamente Fermo Dunque Si ha fatto questa mossa Ma raga Universo è il ritorno Resisti e sopravvivi Scusa? Sego il Starlight Segue il fumetto che leggevo Lo dice l'eroe dopo una battaglia Resisti e vinci? Si Ok Incredibile Davvero clamoroso Sono riuscito a fare tutto Senza farmi scoprire Certo Ho rischiato Qualche volta Ma Wow Ah ah Che ci hai detto? Bastone di questi Mappa delle aree perdute Ok Pensiamo di trovare Pronti? Lo sai Qual è il colmo Per un fornato? Dovresti barragnare Pani Che cos'è? Barbelletto Morti dal ridere Volume 2 Di Willi Rubato un tir Pieno di lampadine La polizia Brancola nel Amore Ok Dal dottore Dica tre volte 33 99 Ho capito Lei ha i calcoli Cosa disse L'ultimo dei moitani? L'hai capita o no? Aspettatemi Ragazza stufa scappa di casa I genitori muoiono di freddo Ok Ammetto di non averla mai sentita Ok Ho finito le battute E ora? Oh è 50% di sconto Vabbè adesso è tutto gratis Vabbè raga Non potete capire Che cos'è successo Praticamente Se ne è andata la corrente Fatta anche la rima Fortunatamente Ha salvato Solo che adesso Devo riprendere Tutte le risorse Che avevo preso finora E siamo al punto Abbiamo finito il combattimento E penso che Ci è arrivato il momento Che le Dica le barzellette Non lo so Poi Se non le vuole più dire Non se la prendesse a male Perché Non è colpa mia Se se ne è andata A corrente Vediamo quando Ho preso Tutte le cose Vi do appuntamento Dovrebbe essere lì Vi do appuntamento lì Perché ho fatto? No no L'abbiamo già fatto Grazie a tutti